Io lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli, Allora possiamo aprire, ci sono 17 presenti, 7 assenti più la Presidente, ci sono 3 consiglieri che sono giustificati, ci sono i consiglieri Ciancio, Gunnella e Pompei, i scrutatori di oggi saranno Candigliota, Giannone e Toti. Allora, prima di iniziare, devo leggere una comunicazione che ho ricevuto dalla Presidente del Municipio, indirizzata a me e quindi per tutto il Consiglio, che è una richiesta di comunicazione al Consiglio Municipale delle dimissioni dell'Assessore alle politiche della mobilità, trasporti, ambiente, decoro urbano e AMA. Gentilissima Presidente, con nota protocollo numero CI 24184 del 30 ottobre del 2019, l'Assessore Daniele Desisti, delegato alle politiche della mobilità, trasporti, ambiente, decoro urbano e AMA, ha fatto pervenire alla scrivente le dimissioni in carico, conferito con ordinanza della Presidente numero 1 del 31 luglio 2018. In data 3010, con nota protocollo numero CI 241866, viste le motivazioni addotte, le stesse sono state accettate. Per quanto su esposto, si chiede espressamente con la presente di voler comunicare al Consiglio del Municipio VII, nella prima seduta utile, che a decorrere dalla data odierna, le deleghe dell'Assessore Desisti saranno ridistribuite come da ordinanza numero 2 2019, che in copia si allega. La presente comunicazione viene resa ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 8 del 7 marzo. sono in cordiali saluti. Lascio qui comunque la copia dell'ordinanza per chi volesse vederla. Allora, il primo punto all'ordine dei lavori di oggi è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo su proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Paciocco, Angelucci, Catini, Donati, Zotta, Ficcardi, Bernabèi, Pacetti, Sturni, Seccia e Vivarelli, regolamento della consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilità, consulta cittadina di I. E linee guida per la predisposizione dei regolamenti delle consulte municipali permanenti per i diritti delle persone con disabilità, consulte municipali di I. Intanto informo che ho ricevuto una richiesta di intervento prolungato da parte del consigliere principato che quindi si troverà a allungare il suo intervento fino ai 30 minuti se necessario. Allora, chi vuole presentare? Sì, consigliere principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, sulla presenza del consiglio d'accordo utilizzerei i 30 minuti in presentazione dell'atto, le ho richiesti più che altro perché abbiamo una serie di osservazioni che sono state apportate all'interno del parere della Commissione e quindi integrate allo schema di delibera sul quale ci esprimeremo in votazione oggi e diciamo colgo la presentazione come occasione per poter elencare anche le osservazioni che sono state proposte all'interno della Commissione, poiché sarò disponibile a rispondere a quelle che sono le eventuali richieste da parte dei colleghi d'opposizione con l'intervento finale previsto dopo la discussione generale. Allora, questa proposta di delibera è una proposta di iniziativa appunto del Consiglio Comunale ed è la proposta di delibera che va a regolamentare la consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilità, in più aggiunge alla fine del documento c'è un allegato con delle linee guida per i municipi, questo perché ci sono situazioni variegate all'interno dei municipi, in alcuni municipi non sono presenti delle consulte municipali per le persone con disabilità, in altri municipi come il nostro sono presenti, nel nostro in particolare ricorderete due anni fa è stata approvata da questo Consiglio una delibera quadro per l'istituzione delle consulte municipali per le persone con disabilità, per i cittadini stranieri e per la scuola. Quindi per spiegare un po' soprattutto ai cittadini perché ovviamente i consiglieri conoscono bene l'iter della proposta, una volta finita l'esame da parte dei vari consigli municipali i vari pareri arriveranno con osservazioni allegate al Consiglio Comunale che poi riaffronterà la discussione in Commissione Capitolina acquisendo quindi le osservazioni dei municipi e valutandole e poi si arriverà in Aula Giulio Cesare per la votazione finale della proposta. A quel punto e solo in quel momento sarà necessario che tutti i municipi in base al testo finale votato dal Consiglio Comunale provvedano a riadattare la proposta di delibera se ne sono già in possesso o a crearne, a depositarne una nuova qualora non fosse presente la proposta, adattandola a quelle che sono le linee approvate con il testo. Non andrei oltre, se non prima di iniziare a leggere le osservazioni che sono state apportate, mi sembra doveroso e ho molto piacere a ringraziare la nostra consulta per la disabilità e la salute mentale per l'enorme supporto e lavoro che è stato fatto in collaborazione con loro. Sono arrivate diverse osservazioni, diverse proposte, la discussione è stata una discussione molto serena e proficua, quindi noi come Commissione e quindi maggioranza e opposizione abbiamo valutato le osservazioni e ci siamo espressi con un parere che in effetti poi le considerava e parte di queste, la maggior parte devo dire la verità, sono state poi inserite nello schema di delibera finale. Quindi ringrazio la signora Cinzia Lancia che è attualmente la coordinatrice ma solo la rappresentante della consulta per la disabilità, ma ovviamente tutti i membri della consulta e i consiglieri che hanno partecipato ai lavori. Un ultimo ringraziamento va al dottore Irachi e ai suoi delegati, mi riferisco alla dottoressa Segatori dell'area delle disabilità che hanno fornito su nostra richiesta in tempi abbastanza stretti anche un loro parere tecnico, hanno contribuito anche ai lavori di commissione partecipando attraverso la dottoressa Segatori, quindi anche da parte loro c'è stato un sostegno in questo senso, quindi mi sembrava doveroso iniziare con questo genere di ringraziamenti. A questo punto andrei direttamente sul deliberato andando a leggere quelle che sono le osservazioni. Al punto 3 del deliberato farò una citazione della parte del regolamento sul quale viene fatta l'osservazione e poi leggerò l'osservazione che è stata inserita nel parere. Il punto 3 del regolamento recita, delibera di stabilire che i consigli dei municipi di Roma Capitale entro sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione provvedano all'adozione o all'adeguamento nel caso in cui sia stato già adottato, di un regolamento per il funzionamento delle consulte municipali che operano sul territorio a favore delle persone con disabilità, ridenominate consulte municipali permanenti per i diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto nelle linee guida di cui al predetto allegato B. Allora, l'osservazione che abbiamo accolto espressa da parte della consulta è la seguente. È necessario prevedere il caso di municipi in regime di commissariamento per giunta decaduta abbiamo alcuni esempi attualmente sul Comune di Roma. In assenza di giunta sarà impossibile che il consiglio municipale provveda a quanto previsto. Né questa funzione può essere demandata al consiglio capitolino. Anche una volta eletto poi il nuovo consiglio municipale espletate le pratiche di insediamento avrà numerose urgenze da affrontare. Tutto questo richiederà un notevole lasso temporale assolutamente non in linea con quanto qui previsto. La commissione su questa osservazione si è espressa favorevole a maggioranza. Punto 4. Di dare mandato all'assessore delle politiche sociali di Roma Capitale di istituire e coordinare di concerto con altri soggetti responsabili all'interno dell'amministrazione capitolina in tema di tutela dei diritti delle persone con disabilità un tavolo di confronto interazione sull'accessibilità universale tra Roma Capitale, la consulta D, le consulte municipali D ed altri attori istituzionali e o associativi allo scopo di potenziare e valorizzare le politiche riguardanti le persone con disabilità e le loro famiglie. Osservazione della consulta. Riteniamo l'istituzione di questo tavolo importantissima perché garantisce la possibilità di esprimere la pluralità delle situazioni e delle istanze specifiche. Vorremmo maggior chiarezza sugli attori del tavolo, in particolar modo sugli attori associativi, prevedendo la possibilità per ogni associazione da sempre di entrare nelle diverse assemblee delle consulte, non comprendiamo la necessità di lasciare poi loro la possibilità di intervenire a questo tavolo a titolo proprio. Le grandi associazioni vengono quindi più volte rappresentate. Anche in questo caso la Commissione si è espressa favorevole a maggioranza. Nella parte dell'allegato a articolo 1, unico gomma, il regolamento recita Roma Capitale riconosce la consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilità di seguito brevemente consulta quale organismo consultivo e propositivo attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovano la partecipazione diretta e attiva dei cittadini, delle loro rappresentanze e dei soggetti pubblici e privati interessati a contribuire, mediante la loro competenza ed esperienza, allo sviluppo e al miglioramento della qualità delle politiche istituzionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'osservazione è la seguente. Vorremmo meglio comprendere cosa si intende per soggetti pubblici e privati e se si prevede contribuiscano interagendo autonomamente con l'amministrazione sugli stessi temi o interagendo attraverso la consulta. Siamo contrari alla riapertura degli sportelli nei municipi. Questo, se ricordate, era un punto che noi avevamo ben espresso nella nostra proposta di delibera municipale. è necessario chiarire modalità di interazione tra soggetti pubblici e privati e tra questi è l'amministrazione. Anche in questo caso la Commissione si è espressa favorevole a maggioranza. Articolo 2. Finalità e funzione della consulta, comma 4. Il regolamento recita. L'attività della consulta si rivolge a tutte le disabilità presenti sul territorio cittadino ad esclusione di quelle connesse alla salute mentale e di pertinenza della consulta cittadina permanente per la salute mentale, assicurando ascolto e coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze mediante opportune forme di consultazione e reciproca collaborazione. L'osservazione della consulta. A livello comunale le consulte della disabilità e della salute mentale sono separate e distinte, mentre a livello municipale, aggiungo io come nel nostro caso, nella proposta non è prevista la consulta della salute mentale, per cui si pone la problematica della tutela delle persone che presentano una doppia diagnosi sanitaria. si suggerisce di individuare per la consulta un termine inclusivo affinché nei casi di doppia diagnosi possano essere rappresentate le funzioni della consulta mancante. Valutazione della Commissione favorevole a maggioranza si propone di non precludere l'accesso in sede capitolina alle consulte municipali che abbiano al loro interno la salute mentale, come nel nostro caso. Articolo 2,5 La consulta sviluppa rapporti di dialogo costante e collaborazione continua con le consulte municipali costituite sulla stessa materia al fine di raccogliere e analizzare le stanze territoriali e sulla base di queste per rendere più incisiva la propria attività nell'esame, assunzione e comprensione delle tematiche comuni e delle azioni concrete messe in essere. Osservazione della consulta. L'assemblea della consulta e il coordinamento dei presidenti di cui all'articolo 11 debbono intendersi al pari. Si propone quindi la seguente riscrittura del comma. La consulta sviluppa rapporti di dialogo costante e collaborazione continua con tutte le consulte municipali costituite sulla stessa materia al fine di raccogliere e analizzare le stanze territoriali e sulla base di queste rendere più incisiva la propria attività nell'esame, assunzione e comprensione delle tematiche comuni e delle azioni concrete messe in essere. A tal fine è tenuta a diffondere a tutte le consulte municipali attraverso il coordinamento di cui all'articolo 11 ogni informazione e o documento diffuso alla propria assemblea. Valutazione della commissione favorevole a maggioranza. Comma 8 dello stesso articolo. La consulta può proporre agli organi di Roma Capitale senza oneri per l'amministrazione l'organizzazione di convegni e seminari di studio al fine di promuovere dibattiti sulla condizione e sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Si propone di sostituire integralmente con le seguenti parole. La consulta può proporre agli organi di Roma Capitale l'organizzazione di convegni e seminari di studio al fine di promuovere dibattiti sulla condizione e sulla qualità della vita delle persone con disabilità e della loro famiglia. Qui credo manchi una parte all'interno della valutazione. Articolo 2,8 Chiedo solo un secondo di tempo per ricontrollare Non riesco ad aprire le osservazioni Riesci ad aprirle tu? Articolo 8,2 Scusa, articolo 2,8 Eh no, c'era un'altra roba qui Sì, però noi avevamo risposto in maniera diversa Purtroppo non è stata riportata nel testo Presidente, mi dispiace ma purtroppo non è stata riportata nel testo quindi poi ci sarà modo un attimo di verificare In ogni caso questa, diciamo, è stata riportata correttamente la votazione rispetto a questa osservazione singola che era stata, diciamo, respinta da parte della Commissione Probabilmente si tratta di un refuso E ci sono delle note all'interno dell'articolo 2,8 Dopo la valutazione della Commissione? Probabilmente io ho una versione più vecchia rispetto a quella che è stata poi depositata effettivamente e trasmessa in Consiglio Sì, ho stampato io quella Questa era quella siglata Ok, grazie Articolo 3 Che cos'era? Articolo 2,8 Va bene, comunque il concetto era quello che cercavo di esprimere prima La necessità, diciamo, cioè la motivazione per la quale avevamo respinto questa osservazione Era perché veniva richiesto da parte della consulta di inserire, diciamo, di togliere le parole senza oneri Ma c'è stato spiegato anche da parte degli uffici Che, diciamo, questa è una dicitura standard Che deve essere inserita all'interno di questo genere di regolamenti per questo tipo di attività Quindi c'era, diciamo, anche una comprensione, un'accettazione da parte della consulta Rispetto al respingimento di questa osservazione Vado al successivo articolo 3,1 Il regolamento prevede Roma Capitale valorizza il ruolo consultivo e propositivo della consulta Mediante il suo coinvolgimento ai fini dell'adozione degli atti afferenti alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie A tale scopo l'Assemblea, Capitolina e l'Aggiunta possono inviare alla consulta tali atti prima della loro adozione Al fine di acquisire eventuali osservazioni e contributi di natura non vincolante Prima di leggere l'osservazione vi rendo partecipi del fatto che all'interno della nostra proposta E comunque per consuetudine, anche prima che noi arrivassimo È previsto che nel momento in cui viene, ad esempio, convocata una commissione politiche e sociali Che tratta dei temi afferenti a una delle due consulte coinvolte Quindi cittadini stranieri o disabilità o salute mentale In automatico vengano invitati le rispettive consulte Invece in questo caso all'interno del regolamento comunale Quindi con riferimento all'Assemblea, all'Aggiunta, Capitolina Compare la parola possono inviare alla consulta L'osservazione sulla quale noi abbiamo votato favorevolmente è la seguente Si propone di sostituire integralmente con le parole Roma Capitale valorizza il ruolo consultivo e propositivo della consulta Mediante il suo coinvolgimento ai fini dell'adozione degli atti Riguardanti la vita dei cittadini Con particolare riguardo agli atti afferenti alla condizione delle persone con disabilità E delle loro famiglie A tale scopo l'Assemblea, Capitolina e l'Aggiunta Inviano alla consulta gli atti prima della loro adozione Al fine di acquisire eventuali osservazioni e contributi di natura non vincolante Così come in realtà è previsto anche dal regolamento generale La funzione della consulta è una funzione consultiva Appunto è propositiva Quindi ci sembra ovvio, corretto e giusto Che gli atti vengano inviati Diciamo prima per un parere non vincolante Quindi l'osservazione è stata votata favorevole a maggioranza Articolo 3,5 Regolamento recito al fine di fornire elementi utili ed informazioni sugli argomenti oggetto di esame Alle riunioni degli organi collegiali della consulta Possono essere invitati gli assessori, i presidenti e le commissioni capitoline Qualora richiesto dai predetti organi della consulta I dirigenti agli uffici capitolini interessati assicurano anche mediante delegati il loro intervento Si propone di sostituire omissis I dirigenti agli uffici capitolini interessati assicurano con omissis I dirigenti agli uffici capitolini interessati garantiscono Valutazione della commissione favorevole a maggioranza Articolo 5 si richiede l'aggiunta di un nuovo comma, il comma 2 Con il seguente testo In considerazione dell'elevato numero di residenti e della complessità del territorio di Roma capitale Il coordinamento di cui è l'articolo 11 è da considerarsi organo integrante ed autonomo della consulta cittadina Nella proposta di regolamento attuale come nell'articolo 19 bis del precedente Le municipali hanno coordinamento all'atere della consulta gestito dal presidente della cittadina Il quale se dovesse decidere di non convocare per un lungo periodo il coordinamento Non sarebbe possibile un'autoconvocazione Chiediamo che questo coordinamento sia di diritto tra gli organi della consulta cittadina Le consulte municipali possono riunirsi in separata sede e successivamente portare la loro voce nella cittadina Anche in questo caso favorevoli a maggioranza Articolo 6,2 lettera B Il regolamento recita nell'ambito delle finalità dell'articolo 2 L'assemblea esamina i temi e delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno La consulta propone di sostituire integralmente questa lettera appena letta con il seguente testo Esamina i temi e delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e o su quelli presentati in urgenza Valutazione favorevole Articolo 6,6 Le riunioni dell'assemblea si tengono di norma presso la sede del Dipartimento Politiche e Sociali Ovvero presso altre strutture capitoline sulla base delle intenzioni di partecipazione dichiarate dai suoi membri Con preavviso di almeno 5 giorni all'ufficio di cui all'articolo 12 Osservazione della consulta Andrebbe garantita la piena e libera partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei propri membri Senza necessità di dichiarazione e preavviso Valutazione della commissione Osservazione non accolta Ecco le nostre motivazioni Non si intende limitare la partecipazione alle assemblee Ma il preavviso si rende necessario per organizzare al meglio le riunioni in termini di disponibilità degli spazi E nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza nel caso di necessità di evacuazione dei locali per situazioni di emergenza Articolo 6,8 Osservazione non accolta Osservazione non accolta Ma piuttosto che convocare direttamente l'assemblea lo si potrebbe fare ad esempio per il tramite del presidente della consulta Anche su questa c'è stata una convergenza da parte della nostra consulta e quindi il testo è stato concordato Articolo 6,10 Le riunioni dell'assemblea sono valide ai fini deliberativi se sono presenti almeno un terzo dei componenti E le deliberazioni sono di norma adottate mediante voto palese per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti Salvo i casi di cui all'articolo 10,8 e all'articolo 10,12 lettera C La consulta Si propone che le riunioni siano sempre valide ai fini deliberativi a prescindere dal numero dei presenti Perché le decisioni emesse sono a carattere permanentemente consultivo Pertanto si propone di sostituire il testo che abbiamo appena letto con Le riunioni dell'assemblea sono sempre valide ai fini deliberativi E le deliberazioni sono di norma adottate o missis E' necessario specificare i termini per la validità della seduta Valutazione della commissione Osservazione non accolta in questi termini Si richiede all'assemblea capitolina di valutare un'alternativa Ad esempio delega di un altro iscritto con titolo a partecipare Articolo 6,14 lettera C Gli incontri pubblici dell'assemblea sono convocati e preseduti dal presidente della consulta Con avvisi indirizzati ai componenti dell'assemblea E di essi è data notizia mediante avviso pubblico sul sito di Roma Capitale La convocazione è altresì inviata a sindaco e i suoi incaricati in materia di sanità e disabilità Assessore politiche sociali Presidente assemblea capitolina e commissione capitolina sociale Rappresentanti di tutte le consulte di Roma Capitale Rappresentanti degli organi politici e o delle strutture di Roma Capitale competenti Rispetto ai temi trattati Osservazione della consulta accolta dalla commissione Si propone l'aggiunta del punto 6 In elenco Rappresentanti di tutte le consulte municipali di Roma Attraverso il coordinamento di cui all'articolo 11 Articolo 7,1 Vado direttamente con la lettura delle osservazioni Comunque il regolamento è disponibile per tutti i consiglieri Perché altrimenti non riesco a rientrare nei tempi previsti Quindi l'osservazione è Si propone di lasciare libera l'iscrizione all'assemblea Eliminando il termine utile di 40 giorni Considerato la finalità inclusiva della consulta Pertanto si propone di sostituire integralmente il comma 1 Con il seguente testo In serie di prima applicazione del presente regolamento Nonché entro il mese successivo Ogni elezione della commissione esecutiva E comunque non prima di 15 giorni dall'avvenuta elezione Sono aperte le iscrizioni all'assemblea Che si chiudono 30 giorni prima dell'elezione E del rinnovo dei nuovi organi esecutivi Scusate della stessa Favorevole a maggioranza Articolo 7,2 Si propone di sostituire integralmente il comma 2 Con il seguente testo La modalità di iscrizione alla consulta È resa nota dal direttore dell'ufficio dell'assemblea capitolina Mediante apposito avviso pubblico L'avviso deve indicare le modalità di iscrizione La relativa modulistica elaborata dall'ufficio Di cui è l'articolo 12 Resa disponibile sul portale istituzionale di Roma Capitale Nell'apposita pagina dedicata alla consulta Favorevole a maggioranza Articolo 7,3 Lettera A Osservazione della consulta Per iscrizione delle associazioni legalmente costituite all'assemblea Si propone di eliminare il vincolo di almeno due anni di attività esercitata Nel territorio di Roma Capitale Si propone pertanto di sostituire il testo Con il seguente Che operino sul territorio di Roma Capitale Valutazione favorevole Articolo 7,3 Lettera B Possono presentare domande di iscrizione Rendendo dichiarazione a norma di legge i singoli cittadini con disabilità o loro rappresentanti familiari legali residenti o domiciliati nel territorio di Roma Capitale Che dichiarano di essere iscritti da almeno sei mesi precedenti alla domanda da alcuna associazione rappresentativa delle persone con disabilità Osservazione Per equiparare le diverse rappresentanze fra singoli e associazioni Si propone la costituzione di un sistema di rappresentanza dei singoli in assemblea generale con un rapporto da 1 a 7 Tale il numero minimo di persone previsto dalla legge del terzo settore per la costituzione di un'associazione L'inserimento di un rapporto di rappresentanza 1 a 7 Implica la costituzione di un'assemblea dei singoli autonoma e autogestita Che invia all'assemblea generale della consulta i propri delegati I familiari ammessi non debbono essere necessariamente tutori legali o amministratori di sostegno Debbono essere coloro che si occupano prioritariamente di un congiunto disabile Si ricorda al riguardo che la nomina dell'ADS non è legalmente amministratore di sostegno Non è legalmente obbligatoria Valutazione favorevole Articolo 7,4 lettera G Osservazione della consulta si propone di specificare meglio Fornendo un modello da compilare per la dichiarazione Valutazione favorevole Articolo 7,5 lettera B Sulle richieste dei singoli Osservazione della consulta si propone di specificare meglio Che in caso di familiare o rappresentante regale Sia necessario inserire la richiesta del nominativo della persona con disabilità di riferimento Così come è opportuno inserire le seguenti specifiche Grazie mille Marco Per gli amministratori di sostegno qualora non anche congiunti alla persona disabile Si valuterà l'ingresso sulla base del decreto del giudice tutelare Così come per ogni altra fattispecie qui non prevista Non si ammette la partecipazione ai lavori di più persone dello stesso nucleo familiare Se legate alla stessa persona disabile Valutazione favorevole Articolo 7,5 lettera C Si propone di specificare meglio fornendo un modello da compilare per la dichiarazione Come sopra Articolo 8,1 lettera B Osservazione della consulta Si propone di aggiungere tra i destinatari anche i presidenti delle consulte municipali Quindi sostituire le parole Nonché ai presidenti e agli assessori dei municipi interessati Con nonché ai presidenti e agli assessori dei municipi interessati E ai presidenti delle consulte municipali Articolo 8,1 lettera C Si propone di inserire l'obbligo di invitare alle sedute delle commissioni dell'Assemblea Capitolina e dell'Aggiunta Che trattino argomenti inerenti alle disabilità Il presidente della consulta o un suo delegato Si chiede quindi di sostituire il testo con il seguente Può chiedere di intervenire e deve essere sempre invitato a partecipare direttamente o tramite il suo delegato Alle sedute delle commissioni dell'Assemblea Capitolina e dell'Aggiunta Omissis Valutazione favorevole Articolo 8,1 lettera D Osservazione A seguito di discussione dell'Assemblea della consulta Si propone di trasmettere per conoscenza la relazione sulle attività svolte dalla consulta nell'anno precedente Corredata dalle relazioni annuali delle consulte municipali disabilità Alla commissione consigliare Capitolina competente Di rendere obbligatoria l'illustrazione della medesima in un'apposita seduta consigliare 8,1 lettera E La commissione propone di sostituire la frase una volta all'anno con l'occorrenza Qui ci si riferisce alla possibilità del presidente della consulta cittadina di richiedere una volta all'anno ai presidenti delle commissioni capitoline di convocare una riunione in merito Articolo 8,2 Osservazione Questa è un'osservazione della commissione Necessario prevedere l'eventuale regolamento a cui attenersi nel verificarsi il caso di assenza contemporanea del presidente e del vice presidente Articolo 8,3 Osservazione della consulta Si propone di aggiungere il nuovo seguente comma Allo scopo di favorire la trasparenza e un'efficace collaborazione è tenuto a comunicare ogni azione rivolta alla propria assemblea Anche al coordinamento dei presidenti delle consulte municipali di cui all'articolo 11 è presente il regolamento Sia su proposizione dell'assemblea che del coordinamento può Lettera A chiedere ai soggetti di cui alla lettera precedente o ai loro delegati di partecipare a tavoli tecnici, gruppi di studio, osservatori E osservatori allo scopo di riferire in merito alle problematiche sulle disabilità e le possibili iniziative da porre in essere al fine del loro superamento Esamina le proposte e i temi sottoposti al coordinamento dei presidenti delle consulte municipali di cui all'articolo 11 ne cura l'analisi dei successivi sviluppi Sottoponendo tali questioni ai competenti membri della giunta dell'assemblea capitolina Per le funzioni sopraesplicitate sentito il parere del coordinamento della commissione esecutiva può proporre seduta ai comuni Valutazione favorevole Articolo 9,3 lettere F e G Osservazione si propone di eliminare integralmente queste due lettere in quanto queste funzioni sono già espedate dal presidente della consulta cittadina Valutazione favorevole Articolo 9,3 lettere H Osservazione della consulta si ritiene che questa lettera presupponga una subordinazione delle consulte municipali all'assemblea capitolina Se ne propone pertanto la modifica secondo le seguenti indicazioni Dopo le parole articolo 11 eliminare danne cura in poi ed aggiungere le parole esprime suo parere non vincolante Valutazione favorevole a maggioranza Articolo 9 commissione esecutiva Osservazione aggiuntiva della consulta si propone di prevedere la possibilità di riunioni su piattaforma web o simili Ad esempio gruppo messaggistica, forum, videoconferenza eccetera Questo per facilitare la comunicazione Valutazione favorevole Articolo 10,6 lettere B e C Si propone di sostituire la lettera B con le seguenti parole Due membri effettivi più due supplenti di rappresentanza delle associazioni Si propone di eliminare la lettera C Considerato che la votazione del presidente implica che già un membro di una delle tre componenti Si è entrata in commissione esecutiva Per non squilibrare le forze sarebbe opportuno che la componente da cui si elegge il presidente Preveda le elezioni dei membri in commissione esecutiva Fino al proprio numero complessivo spettante Si è di fronte a due esponenti per i singoli e quattro per le associazioni Mantenendo la volontà del numero dispari in commissione esecutiva Si propone tre esponenti per i singoli e quattro per le associazioni nella suddivisione già prevista Valutazione favorevole Articolo 10,8 osservazione della commissione si propone di sostituire la frase entro i seguenti sette giorni Con la frase entro i successivi sette giorni Votazione favorevole a maggioranza Articolo 10,11 lettera E Il tempo è scaduto Sì, ho quasi terminato Sì, vado il più veloce possibile, più di così non riesco Guardi, ho veramente quasi terminato Magari prendo un po' di meno nell'intervento successivo È giusto per rendere tutti i consiglieri rispetto alla discussione Si propone di sostituire integralmente con le parole i presidenti e i vicepresidenti Nonché appartenenti agli organi esecutivi Di altre consulte che operino a favore delle persone con disabilità nel territorio regionale Si ribadisce la necessità di rafforzare l'importanza del coordinamento dei presidenti e delle consulte Previsto dall'articolo 11 E' quindi necessario rimarcare che ogni assemblea è sovraneo del suo presidente Espressione della sintesi delle istanze e della discussione che emerge dalla propria assemblea di riferimento L'incontro fra presidenti deve essere alla pari Il coordinamento è organo della consulta cittadina Ma autonomo e indipendente slegato alla commissione esecutiva e dal suo presidente Che vi partecipa in quanto tale D'espressione della sintesi della propria assemblea Si ritiene opportuno inoltre tutelare l'espressa volontà di garantire rapporti di dialogo costante E collaborazione continua con le consulte municipali Articolo 11,2 Sostituire la parola bimestale con mensile Poiché il coordinamento dei presidenti si riunisce secondo calendario annuale Articolo 11,3 Si propone di sostituire integralmente il comma con le parole Il coordinamento si riunisce secondo il calendario annuale Comunicato all'inizio dal presidente della consulta cittadina Articolo 11,4 Si propone di aggiungere alla fine del comma le parole Qualsiasi documento verrà redatto su specifica carta intestata del coordinamento E seppur di sintesi quando non riporti la totalità dei consensi Deve riportare le argomentazioni di tutte le parti Articolo 11,6 Si propone di aggiungere il seguente nuovo comma Il coordinamento può richiedere quanto prevista l'articolo 8 3 lettere A, B e C Ho veramente finito? Mancano 3 articoli Osservazione della consulta Si ritiene opportuno precisare che l'autonomia della consulta Dovrebbe prevedere un rapporto di scambio con l'amministrazione Ma non così vincolante nella delega di funzioni di verifica dei partecipanti all'assemblea Tuttavia, conoscendo l'amore di lavoro che la presenza di una consulta comporta Gradiamo la volontà di mettere a disposizione della consulta i risorse dell'amministrazione La consulta è preoccupata dell'eventualità in cui nel tempo l'amministrazione non ottemperi ai dettami Ritenendo che sia assai grave che questo comporti il fermo dei lavori della consulta stessa È necessario prevedere tale eventualità e inserire una risposta conseguente Che non vada a scapito dei lavori della consulta Osservazione non accolta dalla commissione Lo stesso articolo prevede appunto l'istituzione di un ufficio per i rapporti con la consulta di sabedità Che mette a disposizione almeno tre dipendenti capitolini appartenenti alle categorie C E un dipendente alla categoria D Collocato verso la sede di riunioni dell'assemblea della consulta L'ufficio ha in carico tutti gli adempimenti elencati nell'articolo citato Allegato B,3.2 Osservazione si propone di rivedere questo punto valutando l'eliminazione per semplificare l'attività delle consulte municipali Comma 3.3 A livello municipale considerato il sottodimensionamento del personale amministrativo Sembra improbabile individuazione di due risorse Si propone pertanto di ridurre ad almeno un dipendente con sostituto Comma 3.7.8.9 E ho finito La commissione propone di rivedere i suscitati punti Ed eventualmente eliminarli Valutandoli di difficile attuazione Considerato l'esiguo numero di adesioni a livello municipale Grazie a tutti per la pazienza e a lei per il tempo Altri interventi? Consigliere Toti Oggi andiamo ad analizzare questo regolamento della consulta cittadina per la disabilità E poi le linee guida per i regolamenti a livello municipale che riguardano la disabilità Stiamo parlando appunto delle consulte che noi abbiamo già con, come ha detto il presidente della commissione Già abbiamo noi come municipio una delibera a quadro Che abbiamo votato ormai da parecchio tempo E che purtroppo ha visto una reazione negativa da parte della consulta nell'ultima commissione che noi abbiamo fatto Pochissimi giorni fa Praticamente dove le consulte denunciavano tante negatività rispetto al rapporto con il municipio Tant'è che io ho chiesto che venisse riconvocata una commissione E si potesse avere un confronto costruttivo sia col direttore ma soprattutto col direttore socioeducativo Per arrivare io spero a far funzionare dopo tanto tempo questa nostra consulta della disabilità Ma diciamo le preoccupazioni anche forti sono state espresse non soltanto dalla consulta della disabilità ma anche dalla consulta della scuola E dalla consulta immigrati Tant'è che noi abbiamo verbalizzato delle richieste che sono venute fuori da questo confronto Manca la creazione di una mail istituzionale Non è stato istituito ancora il gruppo amministrativo La gestione delle nuove iscrizioni all'indirizzo PEC La pubblicazione di un modo di iscrizione L'aggiornamento dei referenti della consulta La modifica dei moduli di iscrizione La pubblicazione delle convocazioni Cioè manca tutto Perciò ecco la preoccupazione mia che oggi noi andiamo a votare un regolamento E l'istituzione appunto anche delle linee guida L'indicazione delle linee guida per la disabilità per la consulta della disabilità municipale Però noi rispetto a quella delibera quadro non abbiamo fatto nulla Ecco perciò una riflessione rispetto a questo che è già stata fatta in commissione E che oggi io riporto qui al dibattito municipale Perché voglio dire le consulte sono un discorso molto serio Io quando fu votato Quando furono votate i consigli La delibera per consulte municipali Espressi anche preoccupazione rispetto al numero di consulte Perché io proprio per l'importanza della consultazione di tutte le realtà del nostro municipio Trovavo opportuno allargare il numero delle consulte ad altri settori Comunque io spero che in futuro si possano avere altre consulte In modo che riusciamo chiaramente a rappresentare fortemente quelle che sono le esigenze del territorio E le esigenze dei cittadini Però ecco voglio dire che rispetto a questo Volevo oggi far presente Quello che è stato fatto finora a livello municipale Purtroppo ecco deve essere fatta una correzione forte rispetto a questo Io ho chiesto appunto una convocazione a commissione Una nuova convocazione a commissione, commissione sesta Con le consulte e con i dirigenti massimi a livello municipale In modo che si riesca comunque a correggere in modo positivo Quella che è la consulta per la disabilità municipale Ma anche le altre consulte E possono realmente esprimere quelle che sono le esigenze di questi settori In modo positivo Altri interventi? Consigliere Rinaldi Solo per precisazione rispetto all'ultimo intervento Che le consulte non è che non lavorano bene Le consulte lavorano molto bene E è la dimostrazione dell'evento che abbiamo fatto il 26 ultimo scorso Sulla formazione Il problema che abbiamo portato in commissione anche Organizzazione personale, bilancio e via dicendo È l'interfaccia che hanno con l'ente Quindi ecco l'istituzione di una mail Il fatto che ci sia un istruttore amministrativo Che comunque segue per esempio le iscrizioni, le consulte Tutti i vari processi che possono essere Iniziati dalla consulta o dall'amministrazione verso la consulta Quindi ecco una per precisazione sull'ultima commissione che è stata fatta In bilancio insomma Grazie Altri interventi? Mitrotti? Grazie Presidente E anche io ringrazio il Presidente della Commissione Politiche Sociali Se non altro perché come abbiamo visto anche in aula Si è fatto carico di un lavoro che per quello che ci riguarda ha accolto molte perplessità Che sono emersi durante la discussione in commissione e contestualmente ha aperto La possibilità di accogliere anche le osservazioni che tendono a migliorare la delibera Comunque la proposta sottoposte dalla nostra consulta della disabilità e della salute mentale Quindi nonostante c'è stata un'introduzione molto lunga ma era ovviamente necessaria Proprio perché come un po' sta succedendo in tutti gli altri municipi E come sta avvenendo sul tavolo della commissione centrale delle politiche sociali di Roma Capitale E' in atto appunto una discussione che sta raccogliendo quelle che sono le perplessità Le criticità, i dubbi e a volte anche le bocciature Da tutti i municipi di Roma per i quali si sta cercando di correggere quella che oggi stiamo appunto discutendo Francamente ho un giudizio e permane un giudizio molto negativo rispetto alla proposta che ci è stata sottoposta Originaria e perché? Perché come ho avuto modo di dire in commissione mi è sembrato di ritornare a una discussione Che perlomeno a livello municipale avevamo cercato di sciogliere un po' di tempo fa Quella stessa impostazione che poi è stata confermata anche in questa consigliatura E per la quale si è cercato appunto di dare un contributo che sia di più ampio respiro Che sia un pochino più radicato sulle realtà, sulle esigenze che ci sono Non tanto degli enti gestori, delle cooperative ma anche dei singoli, di quelle famiglie Che appunto tentano di rintracciare un luogo per poter sottoporre Delle problematiche che restano purtroppo a volte ancora in una difficoltà assolutamente oggettiva E quindi l'idea era un po' quella non una consulta ma facciamone veramente dove serve E devo dire che questa è una discussione che con piacere ho ritrovato anche nella discussione che c'è stata in commissione Perché con alcuni consiglieri dell'opposizione appunto abbiamo ritrovato sì il loro no al non facciamo degli sportelli Ribadito appunto anche prima durante la narrazione Ma apriamo dove è necessario tutti quei punti che sono vicini e che al momento invece risultano ad essere purtroppo lontani o comunque non sufficienti Era da lì che noi solo banalmente per dover accorpare le due consulte abbiamo almeno pensato di mantenere le due postazioni Sia a Piazza di Cinecittà che a Via Forti Fiocca proprio per dare quantomeno una possibilità a chi si parla anche di difficoltà di mobilità Quindi di arrivare dove nel luogo previsto per la discussione senza troppe difficoltà Ma c'è di più, nella delibera appunto si parla ancora di una separazione tra, anzi peggio, non si parla di una separazione Si vuole non comprendere nelle discussioni che invece ci competono quelli che sono i problemi della disabilità dal punto di vista mentale O senza dircele troppo, diciamo, senza troppi giri di parole anche di carattere psichico Perché seppure questa potrebbe risultare ad alcuni una oggettiva difficoltà o di competenza esclusivamente regionale Come ci raccontavano a suo tempo e mi pare che questo problema ancora persiste Invece ci siamo proprio resi conto che quell'apertura era non solo necessaria ma giusta perché la disabilità nel corso degli anni Non siamo negli anni 70 ma siamo nel 2020 quasi Ha purtroppo molteplici sfaccettature, ha purtroppo molteplici implicazioni E pertanto la disabilità di tipo mentale, nonché da qui deriva anche il fatto che la nostra consulta si chiama in questo modo Appunto comprende e deve abbracciare Un'osservazione accolta, giusta, diciamo che ho trovato anche nelle conferme durante la discussione Ma che appunto nella sua presentazione originaria invece stava in questa dicotomia Inoltre questa proposta si inserisce in un quadro abbastanza frastagliato di Roma Capitale Cioè abbiamo ancora delle consulte che non sono presenti in alcuni municipi Ne cito il quinto municipio per esempio dice non mi interessa Probabilmente avendo questa proposta di delibera al suo interno delle linee guida Che obbligano, diciamo comunque vincolano i municipi a dover adempiere a quel passaggio Si doterà di una consulta della disabilità Però qui, lo voglio condividere anche con l'Aula oggi È emerso secondo me il punto centrale del valore che ha una consulta Perché io capisco che ci sono dei regolamenti cittadini che devono aiutare Anche le sue articolazioni a dotarsi più o meno di quegli organismi di funzionamento Che possono aiutare, sollevare e sostenere l'amministrazione municipale Però una consulta, o è una consulta o è un luogo istituzionale Quindi se la chiamiamo consulta, un organismo, un municipio Può decidere di avvalersi di quello strumento come può decidere di non farlo Dire che questa cosa esiste e quindi la devi fare con delle determinate caratteristiche Da una parte metteva anche in difficoltà chi pensava ad un'autonomia da parte dei municipi Ma soprattutto veniva meno, era da lì che personalmente ho espresso anche la mia perplessità Sul carattere di permanenza di una consulta Proprio perché potrebbe esserci questa amministrazione che ha deciso che si deve avvalere di quel parere E del lavoro che fa una consulta dell'handicap e della disabilità e della salute mentale Ma ci potrebbe essere la consigliatura del 2021 che non vorrà questo contributo E io credo che o le chiamiamo in modo diverso oppure stiamo usando le consulte per fare un'altra cosa O magari, e non la vedo io, è una via più innovativa che prende spunto dalle consulte Per farle diventare invece un laboratorio molto più approfondito ma che diventano istituzionali E' un'altra cosa e sul quale, vi dico la sincera ma anche modestissima opinione Io sono proprio d'accordo Cioè, nel senso, se poi invece questa cosa si trasforma in qualche cosa di cui la città di Roma decide Esattamente come la consulta cittadina di dotarsi di uno strumento che ci deve essere sempre Io penso che allora dobbiamo ripensare tutti al modo in cui abbiamo ragionato due anni fa Non mi ricordo quando abbiamo votato anche qui Tutte le consulte, non le chiameremo più consulte, ma le chiameremo dipartimenti nostri Non ci sai dipartimenti, ma diventano luoghi di discussione in cui ci sono Fanno parte dei nostri regolamenti, hanno dei riconoscimenti che non cambiano da regolamento a regolamento Ci sono, ma poi possono essere più o meno modificati Insomma, questo potrebbe essere un contributo sul quale invece mi piacerebbe Ma che non scioglie purtroppo questa delibera Anzi, mi sembra che questa delibera va ulteriormente a impostare la discussione e la dicotomia tra questi due aspetti Detto questo, veramente il supporto che ci è dato dalla consulta municipale è importante Nonché legata anche al fatto che purtroppo magari ci troveremo noi Mi corregga il Presidente della Commissione perché probabilmente mi sbaglierò A dover modificare forse il nostro regolamento nel momento in cui si voterà in Assemblea Capitolina E si approverà un nuovo regolamento, ma questo per ritornare al punto di vista Era proprio quella autonomia di cui si facevano carico i municipi Nella scelta di voler votare al proprio interno delle consulte e quindi averle oppure non averle Nel caso invece ci trovassimo in una situazione in cui dobbiamo adattare il nostro regolamento Insomma, saremo nella situazione in cui magari speriamo accolgano tutte le nostre osservazioni Perché altrimenti, nonostante non ci siano dei disallineamenti troppo evidenti Però ovviamente rischiamo di fare un passo indietro rispetto a quello che abbiamo fatto Questo forse ce lo potevamo aspettare, non lo so Però un conto è deliberare sulla consulta cittadina Un conto è deliberare anche su tutte quelle che sono collegate Forse si poteva partire da dove ce le abbiamo e cercare di fare una fotocopia rispetto a quello che intendiamo fare a livello cittadino Perché dove ci sono le buone esperienze magari sarebbe anche giusto replicarle E mi pare che quella che c'è sta da questa parte del municipio Così come io l'avevo vista anche nell'ex nono municipio Mi sembrano due buone esperienze da portare all'attenzione dell'Assemblea cittadina Concludo, pertanto a differenza di quanto è successo nelle altre volte Le discussioni che hanno portato poi a una sostanziale modifica delle delibere che sono state presentate Ci siamo sempre messi dentro una discussione in cui Vabbè, ma vedrai che in Assemblea Capitolina queste osservazioni arriveranno Però purtroppo a distanza di quasi 4 anni Questo accoglimento non c'è mai E quindi tutto il nostro lavoro, il lavoro che viene fatto a volte rischia di cadere un po' nel vuoto E noi ci troviamo sempre quella struttura sopra di noi che decide anche per le sorti dei municipi Questo mi dispiacerebbe perché in particolare sui temi così importanti Andrebbe fatto un lavoro all'inverso e non ritrovarci nella situazione attuale Che peraltro registro è critica, critica nel senso critica non problematica Ma sta ponendo delle criticità a tutti i livelli e in gran parte dei municipi La ringrazio Altri interventi? No? Vuole fare un intervento di chiusura? Sì Grazie Presidente Colleghi consiglieri Sì, il mio intervento di chiusura lo richiedo solo per Come dire Chiarire alcuni punti che sono stati affrontati dalla collega dell'opposizione in precedenza E' stata una discussione abbastanza costruttiva Un po' diversa da quelle precedenti Sinceramente l'ho apprezzata molto Rispetto alle perplessità che sono state sollevate Volevo rispondere per punti Rispetto al discorso della salute mentale Questo è importante E' un passaggio da chiarire bene Quello che ho cercato di spiegare all'inizio Probabilmente nella lungaggine delle osservazioni Non c'è stata la possibilità di coglierlo al meglio Quindi cerco di spiegarmi un attimino meglio Sul discorso dell'inclusione della consulta sulla disabilità della salute mentale C'è proprio un disallineamento Cioè all'interno del Comune di Roma Della consulta cittadina Sono due entità completamente distaccate Cioè c'è una consulta per persone con disabilità E una consulta per la salute mentale Invece in alcuni municipi come il nostro Ci sono delle consulte Diciamo che includono entrambi gli aspetti Quindi anche delle disabilità intellettive Quindi non è che vengono escluse Non è che viene esclusa la salute mentale al Comune Semplicemente è staccata Quindi è chiaro che è necessario fare Un allineamento rispetto a questo Per quanto riguarda poi Diciamo proprio il tema delle disabilità intellettive e relazionali Con la stessa consulta municipale Noi abbiamo fatto una lotta Nel senso buono del termine Proprio per far includere nel nuovo regolamento trasporto Per le persone con disabilità Le disabilità psico-intellettive Quindi alla dichiarazione che ci faceva prima La consigliera d'opposizione In cui diceva Sì, tutto sto lavoro Fantastico Ma poi chi deve decidere Non ne tiene assolutamente conto E no, non è esattamente così L'esempio è stato quello appunto del trasporto disabili Il trasporto disabili era previsto che potessero soffruire All'inizio esclusivamente le persone con disabilità motoria O disabilità visiva Questo municipio è stato Come dire Non mi viene il termine in questo momento Diciamo aperto le acque alla discussione Promotore, grazie Della discussione rispetto proprio a una necessità ovvia Di dover inserire anche le disabilità interettive relazionali Perché non c'è una disabilità che vale di più o vale di meno Devono essere trattate tutte allo stesso modo E quindi Anche sul tema della salute mentale In questo caso è necessario che La commissione capitolina Diciamo Tenga conto Percepisca Queste osservazioni che arrivano dai territori E sono convinto La prima primaritale è la consigliera Paciocco Con la quale tutti i municipi Si incontrano regolarmente E le consulte si incontrano regolarmente Ormai da due anni e mezzo Proprio per raccogliere tutte le osservazioni Tutte le osservazioni Tutte le critiche che arrivano Laddove sono costruttive Poi se si tratta di un tema politico Cioè dei no a prescindere È chiaro che non c'è Non c'è modo di trovare un compromesso Una soluzione Che vada bene per tutti Per tutto il resto invece Se ne può discutere Se una delibera come dico io Non è come un diamante Non è per sempre Quindi come sul Sul trasporto disabili A un certo punto Si è deciso di modificare la delibera Rispetto a quello che era il test iniziale Anzi pensate che sono stato io A dire A livello comunale Facciamo sei mesi di sperimentazione Perché deve essere per sempre la delibera Non è per sempre Se noi abbiamo un'idea fantastica Il nostro obiettivo è chiaro Però poi magari Nella realizzazione Nel concreto Poi non si attua così come noi l'avevamo pensata E quindi è migliorabile Si può migliorare Esistono gli strumenti amministrativi e politici Per poterla migliorare Ma per poterlo fare Abbiamo necessità di una sperimentazione Ecco la cosa fondamentale Sperimentare Quello che noi abbiamo fatto come proposta E questo vale secondo me Per tutte le proposte Municipali Comunali Questo è Secondo me Come dire È una cosa sempre valida Comunque Rispetto alla necessità D'adeguamento delle delibere municipali Per rispondere anche Alla richiesta di chiarimento Dalla consigliera Vitrotti Sì in effetti è previsto Diciamo un periodo Di sei mesi Durante i quali Tutti i consigli municipali Avranno il tempo appunto Di riadattare poi il testo Del Laddove presente Come nel nostro caso Della delibera Quadro municipale Nel nostro caso Rispetto a quelle che sono Le linee guida Della delibera comunale Cioè c'è un quadro Con una cornice Entro il quale noi Dovremmo inserirci Ma non è una prigione Dentro la quale Dobbiamo entrare per forza E tutti allo stesso modo Ok Cioè è una cosa Che può essere modificata Nel tempo Quindi ci sarà C'è ancora il percorso in atto Dei consigli municipali Delle discussioni Come quella nostra di oggi Una volta finito quello Spiegato prima Si riandrà in commissione capitolina E anche lì ci sarà modo Per i municipi Di potersi esprimere Rispetto ad eventuali dubbi Proposte di suggerimenti Eccetera Cioè ancora non è chiuso L'argomento Non è stato votato In assemblea capitolina Anche nella stessa Assemblea capitolina Come ben sapete meglio di me Data la vostra esperienza Si può presentare Un emendamento Anche durante la discussione E prima della votazione Dell'atto Vorrei invitare a stringere Manca un minuto Sì Quindi diciamo Ripeto Questo mantra Una delibera Non è per sempre C'è un confronto Aperto C'è un confronto aperto Quindi Se ci sono necessità Di Se c'è necessità Di modificare Qualcos'altro Noi ci riconfronteremo Ancora una volta Con la consulta Della disabilità Laddove durante il percorso Si dovessero incontrare Delle difficoltà Perché c'è Devo dire sinceramente C'è una collaborazione Ma non solo con quella disabilità Con tutte le consulte municipali Devo dire c'è Come diceva il mio collega Stefano Marinaldi Prima Oltre ad essere attive Come consulta Oltre a lavorare Sinceramente In maniera volontaria E gratuita Perché Magari non tutti lo sanno Ma le consulte Sono uno strumento Volontaristico Quindi è gente Che impiega il proprio tempo In maniera gratuita Per contribuire Per tutti i cittadini Del municipio Quindi Diciamo Noi ribadiamo La nostra disponibilità A metterci seduti Se ci sono delle proposte Da parte vostra Noi le ascoltiamo Se le condividiamo Perché rientrano Nella nostra prima politica Le sosteniamo Le sosteniamo E le porteremo Lì Su quei tavoli Dove Bisogna decidere Così Come è stato fatto Per il trasporto Disabili Così come hanno Accettato E hanno inserito Nel regolamento Trasporto Disabili Le disabilità Intellettive Intellettivo Relazionali Grazie Presidente Grazie Grazie colleghi Allora Dicarazioni di voto Consigliere Giuliano Grazie Presidente Allora Fermo restando Che nel dare Il giudizio Su quest'atto Sarebbe riduttivo Dire solo Sì No Però È un mondo È un mondo Che ci appartiene E quindi Non possiamo Non Tenerne conto E ci dobbiamo Convivere Per cui Qualunque Contributo Qualunque Segnalazione Qualunque Suggerimento Qualunque Attività È ben accetta Al fine Di migliorare Al fine Di migliorare Comunque Un percorso Per chi È portatore Ovviamente Di queste Problematiche Quindi Lungi Dalla politica Di utilizzare Questo strumento Come Tra virgolette No Merce di scambio E questo Municipio Lo sta Dimostrando Devo fare Devo fare Un apprezzamento Io non faccio parte Della Commissione Però lei Caro Presidente È uno che Ci mette l'anima Su sta roba Quindi Devo dire Che Veramente Insieme alla Commissione Ha fatto Ha dimostrato Al di là Del risultato Che poi Non è Non dipenderà Solo da noi Ovviamente E questo è il problema Perché Se fossimo Autonomi Allora Avremmo Altro tipo Di pensiero Altro tipo Di resoconto Ma siccome Dipendiamo Da qualcosa E da qualcuno Per cui Tutte le belle Nostre intenzioni Tutto il bel nostro Lavoro Può essere anche Quantificato Ma potrebbe essere Riduttivo Allo stesso tempo Il momento in cui Varca le soglie Del Campidoglio Perché Quando lei dice Quindi Un apprezzamento Grande A lei E alla sua Commissione Componenti Io non ne faccio parte Ma mi tolgo Tanto di cappello Perché a chi Ha partecipato Perché comunque Io sono anche entrato Durante la discussione Ho visto Un'attenzione E una partecipazione Importante Quindi Sono contento Di far parte Di questo municipio E di aver affrontato Anche indirettamente Questo tipo di problema Anche da parte De l'opposizione Ho visto Un intervento Insomma Vicino Molto vicino Il problema È come Quindi Dare un contributo Noi a nostro livello Possiamo darlo In un certo modo Quindi quando lei Dice Presidente Della Commissione Mi dice Un emendamento Certo che Fino all'ultimo Si può fare Emendamento Però Te lo accettano Te lo Te lo votano Ecco Perché poi Quando il percorso Si allunga Quando la mano Il braccio Va oltre Tu sai Quello che fa La tua Il tuo La tua mano Il tuo braccio Ma poi quando devi Dipendere qualche Di un altro Tu non lo sai Quello che succede Per cui È lì che scatta Il punto interrogativo Tempo scaduto Passati Già Quando parlo Quando ci si diverte Non No Quando È bello intervenire Con il cuore Il tempo passa facile Un minuto Grazie Allora Cercando di essere Grazie Presidente Cercando di Ovviamente Tenere presente Che questo lavoro Fatto da questo Municipio È un'ottima Un'importante Base Presidente Consiglieri Colleghi Maggioranza Opposizione La cosa va Seguita Ovviamente Va seguita A tal punto Come diceva L'esempio Del trasporto Disabili Cioè Da qui Noi Ci arrabbiamo C'era un film Che i due Bud Spencer Trensile Altrimenti ci arrabbiamo Cioè noi qui Siamo sempre pronti A dire la nostra Devo dire la verità Però Poi quando arriviamo lì Troviamo Di altri soggetti Politici Che purtroppo Purtroppo Meglio per voi Non lo so Perché voi comunque Avete una linea Che viene riconosciuta Su Roma Di una onestà Intellettuale Su alcuni argomenti Lì probabilmente Questa cosa Non arriva sempre Per cui avete anche voi Delle difficoltà Si capisce Si intuisce Noi da questa parte Cerchiamo di darvi il contributo Quindi Benissimo Le osservazioni fatte Anche da parte Dell'opposizione Vanno in linea Il fatto di unire Di tenere una disabilità Nella sua completezza È fondamentale Prima Chi stava lì Non l'ha fatto Questo Ha tenuto ben diviso Il tutto Al fine di potersi muovere Come meglio poteva Però Votare sì qui E poi lì Non avere la certezza Di quello che accade Perché sono osservazioni Che provengono Da questo municipio Capito Non dall'aula Bisognerebbe nell'aula Del Capitoglio Quello che emerge Però per positività Fratelli Italia Si astiene Si astiene Perché comunque Dice Vorremmo tanto Ma non siamo padroni Del nostro destino Però abbiamo fatto Un ottimo lavoro E quindi potrebbe essere Che se questa cosa Viene percepita Fratelli Italia Saranno i primi A battere le mani Perché si otterranno Un risultato importante Però non possiamo Ci possiamo fidare Di questo municipio Ma non del Comune di Roma Altre dichiarazioni di voto Non ce ne sono Ah sì Grazie Presidente Colleghi consigliere Io cedevo il passo Per dare la possibilità Di intervenire Ai colleghi Dell'opposizione Se magari C'è la necessità Da parte mia Di ulteriori chiarimenti Rispetto ai nostri interventi Alla proposta Di delibera Però diciamo Che già Dall'intervento Di Fratelli d'Italia È venuto fuori Qualcosa Su cui Riflettere Ritorno Ritorno al tema Del decentramento E dell'autonomia Decentramento È autonomia Decentramento È autonomia È così È azione Decentramento è azione L'assemblea Una volta che Sono stati raccolti Tutti i pareri Dei municipi Una volta che Il testo è ritornato Al Campidoglio E comincia l'iter Nel passaggio Cosa Hanno raccolto Da quelle che sono state Le osservazioni municipali Cosa hanno colto Cosa hanno accettato Cosa hanno condiviso Cosa non riescono a condividere E perché Non riescono a condividerlo Esatto A quel punto Diciamo Noi Avremo chiarezza Contezza Anche di quello che Poi Sarà Non dico Al cento per cento Insomma La proposta definitiva Che verrà votata In aula Quindi Il mio suggerimento La mia proposta Ai colleghi Di commissione Ma a tutti i consiglieri È quello che Noi possiamo intervenire In un secondo momento In questo modo Esatto Ok Quindi Scusate perché Io ho fatto un intervento In realtà siamo in dichiarazione di voto Quindi ovviamente Il movimento Chiedo scusa per questo Il movimento 5 stelle Si esprime Favorevole Alla proposta Di delibera Grazie presidente Ne sono altre Di dichiarazioni Vitrotti Grazie Io invece Purtroppo Non ho questa Fiducia Del mio collega Perché È vero Ha ragione Il presidente Della commissione Principato È vero Che è stato Accolto Un emendamento Ma come sappiamo C'è stato un passaggio Il 23 ottobre scorso In commissione Trasparenza Sulla questione Riguardante Il trasporto Disabili Perché ci sono Invece Delle serie Difficoltà Sia Sull'attuazione Delle nuove procedure Sulla selezione Dei beneficiari Sulla comunicazione Di revoca Del personale Precedente Sia Sui termini Del preavviso Ci sono Una serie Di questioni Che invece Non hanno Diciamo Chiarito Il tutto Quindi Anche Sulla scorta Di quello Che abbiamo visto Diciamo In questi anni Purtroppo Per quanto Il contributo E l'apprezzamento Per il lavoro Fatto Qui è assolutamente Positivo Attendendo Quelle che saranno Le indicazioni E lo svolgimento Dell'Assemblea Capitolina Il gruppo Il Partito Democratico Esprime Parere Contrario Sì Consigliere Totti Come gruppo Di Forza Italia Chiaramente Non possiamo Votare contro Istituzioni Di consulte Voglio dire Proprio Per spirito Quello che diceva Anche il precedente Il precedente La Commissione Servizi Sociali Il discorso Della partecipazione I cittadini In questo caso E perciò Il discorso Del decentramento Però Eccoli Io già Nel mio intervento Ho espresso Forti preoccupazioni Per come Finora C'è stato Come rapporto Fra Le consulte E il settimo Municipio Ecco Le preoccupazioni Seguito Ad averle Perciò Non posso Esprimere Anche se mi dispiace Un voto favorevole Ma debbo Per forza di cose Esprimere Un voto Di astensione La Commissione La Commissione Ha lavorato Si è impegnata Rispetto a questo Ha fatto parecchie Osservazioni Ho visto Perciò Un grosso lavoro Da parte Da parte della Commissione Però Ecco Le preoccupazioni Restano E il voto Mio Non può essere Che di Astensione Ci sono Altre Dichiarazioni No Allora Andiamo a votazione Favorevoli Contrari Astenuti Allora Viene Approvata Questa sessione Di parere Con 12 voti Favorevoli Un contrario E 3 Astenuti Prima di passare Al punto successivo Vi dico Intanto Che mi è pervenuta La richiesta Di un intervento Da parte della coordinatrice Delle consulte Io in genere Voi lo sapete Come d'accordo Col direttore Lascio la parola Solamente al fine consiglio E quindi Assolutamente Vorrei chiedere a voi Se è il caso Di interrompere Il consiglio Oppure Oppure no Perché E' una Diciamo regola Che ci siamo presi Dall'inizio Vorrei Sì Posso presidente Veloce Solo per spiegarle Rapidissimamente La richiesta Perviene Diciamo Un'interruzione In questo momento Perché poi Per impegni successivi La persona Non è più disponibile E quindi Non potrebbe Attendere La fine Dei lavori Considerato Che comunque Fuori verbale Diciamo Vengono comunque Interrotti I lavori Per Era solo per equità Era solo per equità Perché non lo faccio In genere E' una regola Che rispettiamo Quindi io vorrei Rimetterla veramente A tutti voi Con serenità Se assumiamo Se assumiamo che la regola Non c'è più Va bene No E allora Se assumiamo Che la regola Io devo essere La stessa con tutti Io ho detto Che l'avrei chiesto Va benissimo Va bene Va bene Prendiamo Facciamo Una deroga Non è la stessa cosa No 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 Ho capito Ci possono essere Anche altre casi In cui c'è Una oggettività Quindi prenderemo Caso per caso Una valutazione Qual è il problema No Cioè Ci rendiamo Presidente Secondo me Sì Caso per caso Sì Caso per caso Non ci rendiamo Non ci rendiamo Non ci rendiamo Caso per caso Lo vediamo E lo Lo contiamo Tra tutti E' un tema Da discutere Magari Inche di un po' No Infatti io so Di essere d'accordo Non è stato giusto 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 No no ma io La prima cosa che ho fatto L'ho chiesta Il direttore Ed è vero Cioè Una regola Che abbiamo seguito Dall'inizio Sono stata abbastanza Dura Con altre persone Non Diventa No Mi dispiace Tanto per Veramente La coordinatrice Della consulta Che tra l'altro Stimo Perché abbiamo Perché abbiamo Lavorato insieme Io l'ascolterei Io l'ascolterei volentieri Come ascoltiamo tutti A fine consiglio Allora io non lo so Quali sono le tempistiche Per andare via Perché noi se finiamo presto Noi ascoltiamo alla fine Perché se no io ho problemi No no io volevo sapere Va bene andiamo avanti Ok va bene andiamo avanti Magari siamo tutti veloci Come al solito Sono dispiaciuta Di non poter ascoltare I cittadini Ma Io devo considerare Anche i tempi Della segreteria Quindi non Mi dispiace Veramente tanto Allora Faccio per uno O per tutti Andiamo avanti Allora andiamo avanti Per favore Punto numero 2 Proposta di deliberazione Per espressione parere Esensi dell'articolo 6 Del regolamento Del decentramento amministrativo Sulla proposta D'iniziativa consigliare A firma del consigliere diario Regolamento per il calcolo Delle tariffe Da applicarsi Allo svolgimento Di eventi E manifestazioni All'interno degli impianti Sportivi capitolini Di competenza dipartimentale Di cui è l'articolo 9 Delibera Dell'assemblea capitolina Numero 11 2018 Lascio la parola Al relatore Sì grazie Presidente Presento adesso Questa Questa espressione Di parere Brevissimamente Si tratta Di una delibera Di una proposta Che Di regolamento Per quanto riguarda La La disciplina tariffaria Per quanto riguarda Le manifestazioni E gli eventi Che si svolgono All'interno degli impianti Sportivi capitolini Di interesse Comunale Attualmente Attualmente Si fanno Diciamo Si fanno Attività Di questo genere Eventi Ma la tariffazione Viene Per la tariffazione Viene utilizzato Il regolamento Diciamo Degli OSP COSAP Quindi Questa Proposta Tende a Invece Dare una disciplina Omogenea Nel calcolo Della tariffazione Specifica Per le manifestazioni All'interno Degli impianti Il regolamento Descrive Diciamo E' articolato In vari punti Gli elementi Essenziali Sono Che le richieste Possono essere fatte Dai concessionari Chiaramente Degli impianti I criteri Per determinare Le tariffe Sono in funzione Dei metri quadri Della durata Ma anche Della tipologia Dell'impianto E della natura Degli eventi Che si fanno Per cui C'è tutta una tabellazione Riguardo la tipologia Di eventi Che sono suddivisi A scopo Di lucro E senza scopo Di lucro Gli impianti Sono anche lì Caratterizzati Dalla loro Dall'essere Impianti Di particolare Pregio Cosiddetti Speciali Diciamo Sulla falsariga Di quanto Previsto anche Dalla delibera 39 Sull'OSP E quindi In sostanza Viene descritta Un po' La modalità Con cui viene Fatto il calcolo Che in pratica Prevede Una Diciamo Un calcolo Proporzionale Alla metratura E alla Tempistica Naturalmente Ci sono Previste Anche Delle scontistiche Delle riduzioni Di tariffa Nel caso Di eventi Che si Traggono Per più Di 90 giorni O per quelli Periodici Annuali E quindi Diciamo Abbiamo analizzato Il testo Insieme In due sedute Di commissione Sport Con l'ausilio Dell'ufficio Sport Municipale E In sostanza Abbiamo Ritenuto Essere Utile La presenza Di tale Regolamento E che tale Regolamento Tutto sommato E abbastanza Diciamo Ci trova Soddisfatti Tranne Inserire Alcune Osservazioni Che riteniamo Sia Importante Allegare A questo Al parere Che avete Trovato Nella vostra Nella documentazione Inviata Dall'ufficio Consiglio In sostanza Si tratta Di modificare Leggermente L'articolo Relativo Alla Alla Riduzione Delle Diciamo Della tariffa In caso Di eventi Oltre I 90 Giorni E qualche Specificazione In più Riguardo Il calcolo Della tariffa E quindi Io direi Che Questa Delibera Possa essere Diciamo Votata Favorevolmente Perché Comunque Diviene Molto più Specifica Per gli eventi Negli impianti Sportivi Di quella Che attualmente È molto Generica Ed è per gli Osp Su Sede Diciamo Pubblica Ok All'aperto Terminato il mio intervento Ringrazio Dell'attenzione Ci sono altri Interventi Ci sono altri Interventi No Se non ci sono Interventi Ne vuole fare Un altro Finale No Non c'è Bisogno Allora Dicharazioni Di voto Ci sono Dicharazioni Di voto Consigliera Vitrotti Grazie Presidente In realtà Diciamo La presentazione Della Delibera Non va a toccare Un punto Diciamo Fondamentale Che Praticamente Ci riguarda Perché Parliamo Tra i tanti Impianti Sportivi Anche Dell'ippodromo Delle Capannelle Quindi Che è inserito In questa Proposta E sul quale Bisognerebbe fare Magari una valutazione Più generale Quindi Non trovando Un'adeguata Un'adeguata Adesione Diciamo Di questa Proposta A Le esigenze Che non solo Per quello Che ci riguardano Ma anche Per quello Che non ci riguardano Perché Se leggiamo La proposta Di Delibera Io Ho letto Anche le osservazioni Non ho letto Niente in merito Però parliamo Di grandi impianti Come Nando Martellini Rosi Insomma Per Il Comune di Roma Quelli sono Dei punti Di Di Avanguardia Che Vanno Sostenuti Vanno Diciamo Anche Stimolati Nel loro Lavoro Di Visibilità Per Roma E per quello Che sono Per Roma D'altronde Il consigliere Proponente Lo sa bene Perché Chi come noi Podisti Si dileppa In questa In questa pratica Gli eventi Sportivi Sono Moltissimi Ma gli eventi Culturali Che girano Intorno a Questi circuiti Tendono ad essere Sempre molto complessi E complicati Una tariffazione Che magari va A Irrigidire Ulteriormente Quelle che invece Per esempio Anche l'assessore Frongia Mi pare Ha definito Evidente E urgente Cioè Cercare anche Di dare Negli sbocchi Sociali E culturali In questi impianti Per potergli dare Poi una loro Effettiva funzionalità Nella città di Roma In tutto Il panorama Culturale romano È ovvio che Non possono fare scopa Però con questi Irrigidimenti Con queste deriffe Che per quanto Fossero una necessità Di dover Diciamo così Calmierare Mi sembra Che siamo Diciamo sempre Su una fase Di spesa Stiamo a vedere I centri di costo Stiamo a vedere Gli introidi Ma non Andiamo mai A capire Quali sono Le finalità Vere Quindi per questa ragione Il partito democratico Vota contro Altre dichiarazioni? No Allora Passiamo direttamente Alla votazione Favorevoli Contrari Astenuti Sì Abbiamo Abbiamo No Non ci sono Allora Sono Undici voti Favorevoli Tre contrari E nessuno Astenuto Quindi Viene approvata Anche questa Espressione di parere Il successivo È una proposta Di deliberazione Per espressione Di parere A sensi Dell'articolo 6,2 Del regolamento Del decentramento Amministrativo Linea 81 Modifica percorso Con attestamento A piazza Malatesta E rimodulazione Del programma Di esercizio Illustra Non è che Illustra Ariano 12 Allora Sì Consigliere Ariano Grazie Presidente Colleghi consiglieri Abbiamo Ricevuto Come al solito Una richiesta Di espressione Di parere Da parte Della Roma Servizi Per la mobilità A venta D'oggetto La linea 81 Una modifica Del percorso Con attestamento A piazza Malatesta E rimodulazione Del programma Di esercizio In commissione Abbiamo Espresso Parere favorevole Proprio perché Questa Proposta Accoglie Appieno Quanto Determinato Nell'ordine Del giorno Numero 1 Del 22 Marzo 2018 Da parte Del nostro Stesso Consiglio Nel quale Appunto Chiedevamo Di mantenere Il percorso Della linea 81 Fino a piazza Malatesta Come Allora Esercito Quindi Mi sembra Insomma Di aver detto Tutto Grazie No Ancora no Altri interventi Non ci sono Altri interventi Allora Io Intanto Vi dico Che non credo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Non possiamo Andare in votazione Mancano le dichiarazioni di voto Mi sembra Presidente No Facciamo le dichiarazioni di voto Allora Intanto facciamo le dichiarazioni di voto Adesso sono le dichiarazioni di voto Siamo le dichiarazioni di voto Adesso Siamo le dichiarazioni di voto Sì Ok sì Allora io diciamo siamo favorevoli perché Strano eh Però Per ricordare anche a chi ironicamente dice strano che il PD fa così A suo tempo A suo tempo Nella razionalizzazione del trasporto pubblico Eh proprio la giunta raggia aveva tagliato il percorso dell'ostantuno spostando il capolinea da piazza Malatesta a piazza Camerino e nulla era valso L'osservazione delle opposizioni Ricordo chi oggi non è qui ma Do merito anche al consigliere Ciancio che si era battuto su questo Noi tutti avevamo certo Appreso con un certo rammarico questa riorganizzazione come al solito fatta Sempre per una via che non si capisce ma non è quella della logica E dopo un anno e mezzo Nonostante si sono Susseguite delle riunioni ordini del giorno Il capolinea torna a piazza Malatesta Quindi siccome veramente bisogna anche a volte ritornare sui propri passi Accogliamo con favore questo ripensamento e votiamo a favore Sì ma che cambia Sì pure noi accogliamo con favore il ripensamento Se vede che gli ingegneri della mobilità stanno migliorando Cominciano a pensare in modo positivo E perciò voglio dire rispetto a questo Rispetto alle altre linee Rispetto a questo senz'altro E ritorno a Malatesta come tutte le opposizioni unite Avevano più volte manifestato in sede di commissione mobilità municipale Perciò voglio dire Accogliamo e accolgo con soddisfazione questo cambiamento Grazie Presidente Sì è giusto ricordare infatti che Nello scorso anno quando votamo questa espressione di parere L'ipotesi progettuale che avevamo votato nella delibera Era quella relativa Alla modifica di una serie di linee Proprio per l'apertura finalmente dopo anni Della metro C stazione San Giovanni Pertanto le ipotesi progettuali sulle quali abbiamo dovuto lavorare Non erano ovviamente solamente per questa linea Ma contenevano anche le linee 51, 673, 715 E la nuova linea 77 Quindi noi ci esprimemmo nei confronti dell'insieme del progetto A suo tempo la commissione avviò un approfondimento In due sedute successive Interloquendo sia con la cittadinanza che con l'agenzia per la mobilità D'altronde la quotidianità dei cittadini residenti nell'area Aveva subito dei forti disagi derivanti Proprio dal lungo periodo di canterizzazione per la metro C E che l'interlocuzione con i cittadini Aveva arricchito i lavori della commissione Nella quale aveva espresso il parere nella seconda seduta E calendarizzato contestualmente proprio la redazione di quest'atto Quindi dell'ordine del giorno che è stato accolto E che aveva praticamente in sostanza Nell'ambito dei lavori di questa commissione Ottenuto anche delle modifiche Che erano state fortemente richieste anche negli anni precedenti Ad esempio infatti ricordiamo l'attestamento Lo spostamento di una fermata che sarebbe stata al capolinea Ma che ovviamente aveva arricchito tantissimi disagi ai cittadini Quindi noi ribadiamo che sicuramente sono state fatte delle modifiche Ma che comunque quello che noi all'unanimità votammo Perché l'abbiamo votato e formato all'unanimità È oggi appunto nuovamente realtà Quindi noi votiamo favorevolmente Grazie Sono state fatte tutte le dichiarazioni Allora a questo punto votazione Favorevoli Contrari Astenuti 13 voti favorevoli Quindi approvata all'unanimità E siamo al punto successivo Che è una proposta di risoluzione Avente ad oggetto interventi sul parco archeologico di Centocelle Volte alla sicurezza e alla fruibilità dello stesso Lascio la parola Lei consigliera Vitrotti? Grazie Presidente Ci tengo a sottolineare che questa proposta di risoluzione Nasce da un lavoro che stiamo seguendo insieme al quinto municipio Sul quale e con il quale devo dire Si è instaurata una collaborazione attenta E negli ultimi tempi Si è anche arrivati ad una serie di interventi molto positivi Su quelle che sono le aree che sono di loro competenza Immagino che sappiamo tutti di cosa stiamo parlando Sappiamo anche delle criticità che insistono su questo parco Ma sappiamo anche di tutto quell'interesse che c'è intorno a quest'area Affinché si avvii una fase di intervento che restituisca alla cittadinanza la fruibilità di questo Lo dico perché ci sono tra cui i movimenti che si sono fatti anche promotori di alcuni interventi Cittadini, professionisti Persone che sono interessate a valorizzare A rivalorizzare un'area Che al momento non vede neanche gli accessi adeguati E senza narrarvi tutta la storia Senza toccare il fatto che nell'area perimetrale del parco Ci sono una serie di attività che sono state giudicate non compatibili con la covacazione del parco Ovviamente mi riferisco agli autodemolitori su via Togliatti E dalla parte di là quello che sono via di Centocelle Che si susseguono Io ne cito uno qui in questa risoluzione Ma una serie di incendi Parliamo quasi sempre di rifiuti tossici e di quello che avviene all'interno della barbuta Ma qui non succede niente di diverso purtroppo Tanto che è notizia veramente recente Che è stato fatto proprio uno sgombero E sono state ritrovate una mole considerevole di rifiuti interrati Quotidianamente chi vive in quelle zone adiacenti al parco Purtroppo respira rifiuti tossici E rifiuta fumo tossico Perché anche lì purtroppo insistono degli insediamenti abusivi E perché non c'è un'adeguata attenzione rispetto a quello che effettivamente si poteva fare Lo dico perché sono al febbraio del 2017 Quando c'è un'ordinanza, la numero 22 In cui si ordina al Dipartimento Tutto dell'Ambiente Proprio la rimozione dei rifiuti da parte della nostra sindaca La bonifica dei luoghi E dà indirizzo ad Arpalazio Di fare delle analisi delle acque di falda E dei pozzi situate nelle aree circostanti È un lavoro necessario Perché si è rischiato effettivamente Di occuparci dell'altro problema enorme Che sono gli autodemolitori che insistono lì Ma si rischiava di non guardare quello che effettivamente si stava accumulando E quindi una situazione di degrado diffuso E quindi c'è addirittura nel nuovo piano di protezione civile di Roma Capitale Prevede all'interno del fascicolo 8 Il rischio di incendi di rifiuti E da pagina 149 in poi Tra i tanti rischi considerati c'è quello di incendio degli autodemolitori Non so se ve lo ricordate Ma a luglio di due anni fa Forse era proprio il 2018 Ci fu un'esplosione molto importante Alcune macchine con impianto a gas Erano proprio delle zone che si trovano nell'area adiacente al parco E proprio una di queste per fortuna Non si arrivò alla situazione peggiore Ma per giorni l'area era irrespirabile Detto questo io ricordo anche che questo municipio Nelle sue commissioni La scorsa consigliatura ambiente e lavori pubblici Si trovavano urbanistica Erano raggruppati nella prima commissione Ci furono due o tre mozioni Tutte votate all'unanimità Presentate dal Movimento 5 Stelle Dalla lista civica Dalla loro maggioranza Tutte volte alla valorizzazione Di questo grande polmone verde Tutte volte a sanare Una ferita che c'è Che prevede che ci sia una congiunzione di intenti Tra tutti i municipi interessati Ma anche per quello che ci riguarda E anche per rendere conto Alle richieste incessanti che da anni Fanno i cittadini Che sono quelle che si trovano dalla parte Via Papiri A Largo Santi Romano Chiedono una fruibilità E un accesso al parco E' per questa ragione Che abbiamo come gruppo Il Partito Democratico Presentato questa risoluzione Perché chiediamo Di relazionare alla sindaca Nonché sindaca della città metropolitana E con gli uffici competenti Per dare seguito Tramite le somme stanziate in bilancio Delle azioni necessarie Affinché si proceda alla caratterizzazione E bonifica dei rifiuti presenti Nell'area del parco Si sta facendo per un pezzo Cioè ripeto Siamo dentro al quinto municipio E è da giorni Che stanno allacremente Lavorando per ridurre La molle di rifiuti interrati Che sono stati trovati Purtroppo dalla parte nostra Questo non sta avvenendo Predisporre procedure di emergenza Per la prevenzione degli incendi Quali l'ampiamento delle entrate Per permettere l'accesso Ai mezzi di soccorso Perché non so se vi ricordate Però è faticoso eh Presidente Io capisco Però se c'è una riunione di Capigruppo Modite oppure ci ascoltate Grazie Sì andiamo avanti Che pure lì avete fatto una financia All'apertura dell'entrata Anche su Viale Parmino Togliatti Che è in parte quella che ci interessa E all'apertura degli accessi Proprio di concerto con i residenti E la cittadinanza coinvolta Del parco dal lato Via Vapiria Largo Santi Romano All'adeguamento Del piano di protezione civile Comunale Prevedendo anche il rischio Di roghi tossici Causati dalle discariche abusive Presenti A procedere Celermente Alla delocalizzazione Degli autodemolitori In base alle leggi nazionali Vigenti Qui andiamo di proroga In proroga Quindi credo Che per un'amministrazione Che da sempre Si dice attenta Alla Forza E quindi governa Questa città Con un'ordinanza Si era andati dritti Verso un obiettivo Si era poi inizialmente Incanati Nella solita diatriba No è competenza della regione No è competenza del comune Alla fine abbiamo capito Che era competenza del comune E se questa però Se questa come tutte le altre questioni Non trova uno sbocco A questo punto non so Chiediamo alla regione Di intervenire Ma chiediamolo Alla creazione di un tavolo Politico e amministrativo In cui siano appunto Presenti Regione Lazio Città metropolitana Roma Capitale E tutti i municipi coinvolti Per la risoluzione Di tutte le problematiche Fin qui enunciate Ognuno per le proprie competenze Perché vi assicuro Che dall'interlocuzione Che abbiamo con il quinto municipio Ma immagino anche voi Non abbiamo tutti La stessa situazione Ma l'intento è comune Andiamo a riqualificare quel parco Rendiamolo fruibile Avremo gli accessi E a procedere Solo dopo la soluzione Di tutte le problematiche enunciate Al proseguimento dei lavori Del secondo strancio Alla musealizzazione delle ville Perché come sappiamo E come ci dicono Ormai Anche i comitati locali E gli archeocomitati locali Sembra un'area Di profondo interesse storico Che varrebbe la pena Appunto Destare la nostra attenzione Piuttosto che Attendere ulteriormente tempo Vi ringrazio Grazie presidente Altri interventi? Consigliere Guido Grazie presidente Io sarò molto veloce Perché poi magari La consigliera Riano Poi ci parlerà più tecnicamente Io parlo più che altro Da punto di vista amministrativo Quest'atto Per la quasi totalità Se non per la totale Applicabilità Si fonda Su una competenza territoriale Che è di quinto municipio Il settimo municipio Non c'entra niente Però Poi tecnicamente Magari anche la consigliera Cioè Riano Dirà qualcosa Quindi Potrei anche essere d'accordo Con alcuni punti Ma non competono a noi Grazie Altri interventi? Consigliere Riano Grazie Sì Presidente Effettivamente Parlando Diciamo Da Presidente Di Commissione Terza Vedersi comunque L'atto presentato E non aver mai Comunque rappresentato In sede di Commissione La tematica Sinceramente Proprio perché deriva Da quello che dice A questo punto Da quando ci è stato detto Questa sede poco fa Da una interlocuzione Con il quinto municipio Io suppongo Che si tratti Evidentemente Tra omologhi Ovviamente Noi sappiamo Che sulla tematica Sono state effettuate Una serie di commissioni Capitoline Anche recenti Anche recenti Delle quali Purtroppo Non abbiamo ancora La verbalizzazione Io ho provato Anche a reperire Quella E ho fatto Un pochino Di cronistoria Effettivamente Già anche Negli anni passati Il nostro municipio A dicembre Del 2014 Si espresse Sulla questione Del parco archeologico Quindi assolutamente Rivedo In quelli che sono Gli intenti Dei colleghi Attuali Quello di Riporre La questione Sotto I riflettori Però Non ho compreso Deco la verità Però parlo In questo caso Da presidente Perché so che In genere Le tematiche Le affrontiamo insieme Si sa che In genere Andiamo ad approfondire Perché magari Non si sia Non si sia Magari pensato Di portare La tematica E avremmo fatto Sicuramente Degli incontri Anche sia Con il dipartimento O comunque Con i colleghi Del quinto municipio Che Insomma Giova anche Ricordare Sono comunque Della nostra stessa Parte politica Quindi Lavorando da maggioranza Magari Non so Forse Non so L'interlocuzione Se magari Alcuni dicono Non abbiamo tutti Le stesse informazioni In teoria Deve essere Sicuramente Quella più Completa Almeno penso Comunque Alcune delle informazioni Che mi sono state date Sono situazioni Insomma In corso Che denotano Che la situazione Sia comunque Sotto Insomma Sotto 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 Riflettori Ma soprattutto Che sia in fase Di Insomma Di lavorazione Ad esempio Sulla questione Della E non so Se devo andare Punto per Per il punto dell'atto, se mi potete restituire un secondo l'atto? No? È rimasto sotto? Me l'ero preso? Eccolo, perfetto, eccoci qui. Allora, noi in quest'atto ci viene chiesto di relazionarsi con la sindaca di Roma Capitale, nonché sulla sindaca della città metropolitana e con gli uffici competenti per dare seguito, tramite somme stanziate in bilancio, le azioni necessarie affinché si proceda alla caratterizzazione e bonifica dei rifiuti presenti nell'area del parco, in particolare interesse e continuazione di falda e terreno accertate. In realtà c'è stato detto dall'assessore del quinto municipio che le analisi delle acque sono state effettuate in tre pozzi e dalle rilevazioni ARPA del 16 maggio 2017 risultano presenti composti organoclorurati compatibili con tutto il quadrante, quindi con dati compatibili anche al di fuori dell'area del parco, che comunque l'area viene considerata potabile, secondo la concentrazione che è stata trovata. Mentre la soglia di contaminazione è pertanto al di sotto per quanto riguarda la potabilità, mentre ha confermato il superamento delle soglie per l'attività di bonifica, ex codice ambientale, quindi a 152 del 2006. Ricordiamo però sempre che le falde solterranee non sono le falde di acquedotto da cui arrivano le acque che noi beviamo, quindi questo è anche importante ribadirlo. C'è stato confermato che sono state fatte degli interventi di bonifica per importi di circa 170.000 euro in extratari e appunto c'è stata indicata come rimozione dei rifiuti l'area dell'ex Casilino 900 per la parte della Palmiro Togliatti e la rimozione dei rifiuti ex Casilino 700 nella parte dove sarebbe dovuta passare quella definita tagliata, quindi l'ex Galleria Mussolini, quella nella quale presero appunto fuoco i rifiuti a gennaio 2017. Per quanto riguarda invece l'accesso su via di Centocelle e di via Casilina, c'è stato detto che comunque hanno sempre consentito l'accesso agevole dei mezzi di soccorso. Per quanto riguarda invece l'accesso di via Palmiro Togliatti, che insiste comunque su un'area privata, ci è stato riferito che proprio in questi giorni sia stato reso accessibile e messo in sicurezza dalla proprietà proprio grazie all'interessamento della Polizia Locale del Quinto Gruppo, quindi in questi giorni, ripassando da quelle parti, si potrà notare la messa in sicurezza di questo accesso che insiste su area privata. Inoltre, sempre nei giorni scorsi, sono stati rimossi ulteriori, come veniva prima ricordato, rifiuti derivanti da assemblamenti vi presenti e sono state allontanate persone dal MAE, quindi con l'assistenza prevista dai protocolli unitamente alla Polizia Locale. Per quanto riguarda invece l'elaborazione dell'eventuale piano di sicurezza, a luglio sono intervenuti sopralluoghi congiunti di ARPA, ISPRA, Dipartimento Tutoriale Ambientale, Direzioni Rifiuti, del Municipio Quinto, della Polizia Locale Quinto Gruppo e sono già in corso di valutazione. Mi è stato specificato appunto dell'eventuale piano di sicurezza e piano bonifica, perché per un punto, essendo in fase di definizione, ancora deve essere effettivamente presa anche la decisione se questa debba essere necessariamente fatta secondo quanto previsto dalla vigente normativa oppure se non sia necessario. Per quanto invece riguarda le opere del secondo stralcio, che riguardano appunto una gara che aveva avuto delle problematiche, per cui il primo fidatario, mi pare di ricordare, sia fallito e il secondo non abbia affidato di questa gara e che pare il secondo in graduatorio non abbia accettato l'affidamento, pare che sia in fase di valutazione del Dipartimento Tutoriale Ambientale, quindi Direzione Rifiuti, eventuale ulteriore interpello, quindi diciamo sono cose in itinere. Quello che potremmo sicuramente prendere in esame, però magari a questo punto lo possiamo vedere anche malutando dei lavori in commissione o altro, è la questione degli accessi al parco, sicuramente. La questione degli accessi al parco però sarebbero su area privata, pertanto già anche nell'atto del 2014 io sinceramente sono rimasta un po' perplessa perché ai tempi il nostro stesso municipio non fece riferimento al fatto che si trattasse, non mi pare perché vedevo che risolveva di impegnare la Presidente e la Giunta di allora ad attivarsi presso il Sindaco affinché si desse avvio ad un processo partecipativo che coinvolgesse tutti i cittadini, comitati e associazioni presenti nel quadrante del parco di Centocelle per la realizzazione di un progetto di riqualificazione di tutta l'area, condiviso e trasparente, che tenesse conto delle esigenze del territorio e degli abitanti in particolare che in tale progetto di riqualificazione fossero previsti gli accessi al parco da via Papiri a via Santi Romano. Qui diciamo che, non so se l'avessimo scritto noi ora, sicuramente avremmo detto in una ottica di riqualificazione generale ed eventuale es proprio, prevedere l'accesso appunto. Però queste sono ulteriori divagazioni. Io ripeto, anche io rimango un po' perplessa sulla questione proprio della competenza e quindi sinceramente non so, non sto facendo una dichiarazione di voto, quindi queste erano le informazioni che sentivo di condividere con voi. Semplicemente questo, grazie. Sì, consigliere Totti. Quello che chiedo alla Presidente della Commissione è che dato che il parco di Centocelle potrebbe essere un parco fortemente interessante per i cittadini, per i nostri cittadini del Tuscolano che si trovano con pochi spazi verdi, specialmente nelle vicinanze del parco di Centocelle. Come ha detto la Presidente giustamente, il portarlo in Commissione Ambiente, è un confronto anche da fare in Commissione Ambiente, io spero costruttivo anche con il quinto municipio perché si arriva certamente all'apertura dei varchi, perché io penso che l'utilizzo di questo parco sia importante per recuperare una vasta area verde che non viene utilizzata dai cittadini del settimo municipio, perciò indipendentemente che si trovi in un territorio non di nostra competenza, però voglio dire apriamo pure noi un varco in Commissione proprio per dare la possibilità ai cittadini di entrare in questo parco e di utilizzare. Perciò l'augurio che la Presidente lo porti in Commissione, è questo che chiedo come forza politica, il prima possibile per dare via a un utilizzo del parco. Altre interventi? Non ce ne sono. Consigliere Giarnone. Sì, grazie. Volevo fare un piccolo intervento per portare all'attenzione di questo Consiglio, del fatto che a inizio ottobre è uscito l'esito dei lavori del tavolo di valutazione per quanto riguarda il bilancio partecipativo di Roma 2019. Tra i progetti che sono stati finanziati ve ne sono due, sul quinto municipio, sul parco di Centocelle, in particolare uno si intitola il parco di Centocelle tra passato, presente e futuro per 500 mila Euro e prevede, tra le azioni, sono tre le azioni principali, l'apertura di un varco tra nord e sud che porta accesso al parco da via Papiria e da via Palmino Togliatti. Quindi in sostanza, voglio dire, mi sembra che questa risoluzione risulta essere ormai per questa parte che è quella di nostra competenza. Le altre, come diceva la Presidente Ariano, sono su altri tavoli, in altri municipi, pur essendo un problema che comunque possiamo tranquillamente anche approfondire, ma con un lavoro di commissione. Il tema quindi che noi potremmo sicuramente ritenere appropriato per questa risoluzione è il tema del decoro e dell'accessibilità, ma tuttavia anche sul decoro, devo dire che ci sta un altro progetto, il secondo progetto decoro legato al parco di Centocelle, che anche esso è stato finanziato, mi sembra, per 300 mila Euro, quindi con ripiantumazione, con l'impianto di nuove fontanelle, di decoro del parco, quindi in sostanza quelle che potrebbero essere i punti che noi potremmo eventualmente portare sono già coperti da questi due progetti che sono stati, fortunatamente hanno riscosso l'attenzione dei cittadini, dell'interesse dei cittadini e che quindi rientrano tra quelli finanziati. Sugli altri temi ha spiegato la consigliera Ariano come procedere, questo per rendere noto a tutti queste novità, grazie. Scusi Presidente se riapprofitto nuovamente di questa opportunità, ma francamente non ho capito. Allora noi abbiamo presentato appositamente una risoluzione perché ci fossero due condizioni. Uno, il mittente giusto che era quello di arrivare alla sindaca e quindi portare queste pressioni anche dal municipio sul suo tavolo. Secondo, fare un passaggio in commissione e aprirlo alla discussione dei commissari, perché se no il passaggio in commissione che noi abbiamo previsto anche nella commissione competente all'interno del nostro regolamento, che la facciamo a fare, non è che è una presa d'atto il passaggio in commissione, è un'occasione per lavorarle, per darle un suggerimento consigliere Toti. Questa roba sul tavolo della commissione si poteva anche stracciare, si poteva anche modificare, però visto che da tre anni e mezzo non se ne è mai discusso e non perché non è di nostra competenza, perché vi è sbagliata, perché esattamente come noi chiediamo l'impegno del comune di Ciampino sulla barbuta allo stesso modo e perché ci sono dei problemi enormi e seri che riguardano la salute pubblica, che non sono di quelli del quinto municipio o del settimo, sono dei cittadini di Roma. E quindi che voi oggi mi venite a dire che questo non è un tema che ci riguarda e che non è di competenza, francamente tra l'altro, forse ce la dovremmo prendere come Presidente che allora accoglie tutto? No, perché forse un minimo invece di ragionamento sul fatto che l'abbia accolta un atto andrebbe fatto? Primo. Secondo, non è proprio così esattamente perché a marzo dell'anno scorso Boccuzzi e Lozzi, che sono rispettivamente il Presidente del quinto e del settimo municipio, partecipano all'assemblea pubblica per approfondire i problemi che vi ho narrato qui, ognuno per la propria competenza. Certo che io non vi sto chiedendo di elaborare un problema o di sciogliere il problema del quinto municipio, ma non potevo non metterlo perché quella è un'area che da sempre, da anni, riguarda tutti e attenzione, non ho sentito dire tranne i progetti che sono stati approvati nel bilancio partecipato che rimangono progetti, cioè è un'altra cosa rispetto a quello che vi ho enunciato io e a quello che andrebbe fatto. C'è un progetto invece che è quello del Ministero. Allora, che cosa vogliamo dire rispetto a quello? Perché quelli che erano stati gli impegni da parte del municipio quinto e del municipio settimo attraverso le loro apicalità, ve le leggo, erano promettenti e chiari partecipazioni permanente di comitati e cittadini alla progettazione della riqualificazione del parco, comprensiva dello spostamento delle fonti inquinanti permanenti come gli sfasci, la sua totale restituzione all'uso pubblico in tutte le forme. Dire che non esiste un tema su chi abita in via Largo Santi Romano è una cosa che ci riguarda. Sono abitanti del nostro municipio, che dite che non è competenza del settimo municipio? Dopo tre anni e mezzo poi, non lo so. Informazione costante circa lo stato sanitario ed ambientale, perché qui non è che stiamo a misurare con la fettuccia quello che va di qua e quello che va di là. I fumi tossici ce li respiriamo tutti, e come lo diciamo noi a Ciampino, andiamo a battere i pugni lì che se ne devono occupare, ci devono aiutare, allo stesso modo dovremmo fare noi, investendo la sindaca in qualità di sindaca della città metropolitana, è qualcosa che va anche oltre la casacca di sindaca della città di Roma. Infine, informazione costante circa lo stato sanitario e ambientale del territorio e i progetti del Ministero della Difesa relativi al Pentagono italiano. Allora, adesso non è che noi non possiamo dircele certe cose, non solo parlarne in Commissione, ma appunto cercare di avere quell'interlocuzione che era prevista e che era stata promessa e che ad oggi non c'è. Quindi io mi rimetto anche un po' alle volontà dei Presidenti delle Commissioni, non è che un gruppo, come giustamente si apre la disponibilità, presenta un atto che non è che è scritto a bolla papale, non è che è sfiggillato, una risoluzione proprio per il suo atto e per la sua forma passa nelle convinzioni per una valutazione oggettiva, anche perché probabilmente la maggioranza ha quelle informazioni che oggi ci si riportano in Consiglio. Dire che questo atto non funziona perché non abbiamo le competenze è debolissimo e non si può fare, primo perché non è vero e secondo perché ci mette in una situazione di debolezza sul panorama cittadino che è imbarazzante. Quindi io credo che, come era stato fatto esattamente nella scorsa Consigliatura, con tutte le forze politiche, anche da sollecitazioni avvenute dal Movimento 5 Stelle e accolte dall'allora Commissione, perché appunto ce se ne occupava nel 2014, nel 2015 e nel 2016, ce ne occupava sempre, anche su proposta, ripeto, dello stesso Movimento 5 Stelle di buttare l'attenzione lì, io penso che invece noi, al di là di quello che ci siamo detti qui, possiamo ritornare sull'argomento chiedendo un'attenzione maggiore e diversa anche alla Sindaca. Tra l'altro so che c'è un'interlocuzione aperta anche con il Ministro all'Ambiente Costa, che mi pare persona molto saggia, che può anche aiutarci nella costruzione di una linea comune per non ritrovarci magari tra qualche mese che ci preoccupiamo del progetto del Pentagono italiano che magari non abbiamo detto, non abbiamo citato, ma che magari è quello che riqualifica il parco. Se permettete, preferirei che ci fosse quella cittadinanza che da anni chiede quantomeno un accesso prima di trovarsi il Pentagono italiano sotto casa. Grazie. Grazie. Posso sapere chi fa la dichiarazione di voto? Consigliere Ariano. Sì, grazie Presidente. Dunque la collega non è componente anche della Commissione, quindi oddio vedo una persona che non l'ho mai vista, ma ho preso un attimo, scusa. Sì, buonasera. Dicevo, noi abbiamo praticamente il mese omicidato, abbiamo praticamente calendarizzato, allora le risoluzioni hanno tempo 15 giorni per la trattazione, nel momento in cui abbiamo portato l'argomento in realtà avevamo deciso di prendere poi ulteriori informazioni e vedere nelle more della calendarizzazione se fosse poi eventualmente emersa una qualche informazione diversa o meglio. Nel corso della Commissione non c'è stato proposto un'eventuale possibilità di emendare o comunque di richitiro dell'atto e di fare altro, quindi noi così come è stata calendarizzata l'abbiamo votata. Tant'è infatti che si può notare che ci siamo astenuti. Per questo noi sinceramente anche in questa sede ci asterremo su questo atto. Perché? Perché comunque riteniamo che visto che è così tanto tempo che se ne parla e visto che proprio in questo momento ci sono delle cose che si stanno definendo sia giusto, saggio, non abbiamo detto che non si tratta di cose che non ci competono. Abbiamo detto che effettivamente come alcune cose sono presentate forse così conchiuse potrebbero non incontrare quella che potrebbe essere la migliore modalità per l'espressione del Consiglio. Pertanto riteniamo che sia un argomento sicuramente da approfondire insieme, soprattutto alla luce di tutti i passaggi che sono già in corso. Ciò non ci vieta o non vieta ai colleghi di altre forze politiche di ripresentare degli atti o comunque non ci vieta a maggior ragione di lavorare insieme e poi produrre quello che una volta ottenute le ulteriori informazioni ed approfondimenti delle attività in corso, maggiori informazioni e quindi dare una maggiore certezza a quelli che sono i nostri cittadini che appunto sono così prossimi a quelle aree. Quindi semplicemente questo. Pertanto noi ci asterremo. Grazie. Sì, quello che io ho detto in precedenza, mi sembra importante portarlo all'attenzione della Commissione, confrontarci con anche il quinto municipio per poi arrivare a un'indicazione precisa. da parte del municipio, ma soprattutto l'apertura, ecco io spero che questo progetto venga finanziato, però che si arrivi all'apertura del Varco, dei Varchi, proprio per l'utilizzo da parte del municipio, da parte dei cittadini e tuscolano di questo bene prezioso che è il Parco di Centrocelle, che non può essere così lasciato, così in una situazione difficile come adesso si trova. Perciò in attesa di un confronto costruttivo in Commissione, anche io mi astengo rispetto a questa risoluzione presentata dal Partito Democratico. Allora andiamo direttamente in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Scusate, non uscite, io ho l'ultimo punto ancora, aspettatemi un attimo, ho l'approvazione dei verbali, lo so che richiede solo un secondo. Allora, la risoluzione viene respinta con 13 voti, cioè viene respinta, non passa, non viene approvata, con un solo voto favorevole, nessun contrario e 13 astenuti. Dico che ci sono dei verbali da approvare, c'è il verbale 22 della seduta del Consiglio del 27 giugno e 23, 24 e 25 del 4, 11 e 18 luglio, risultano essere quindi approvati e il Consiglio finisce qui alle 16.52. Grazie. Grazie a tutti